Ristrutturazione della società Alba attraverso un cambio della dirigenza e quanto annunciato dalla sindaca di Battipaglia Cecilia Francese in un documento fatto pervenire alle organizzazioni sindacali del territorio. Una breve relazione con la quale la sindaca ha ripercorso la storia recente di Alba, situazione debitoria in primis, e posto alcuni paletti per il futuro. La volontà dell'amministrazione, stando a quanto si legge nel documento, è quella di salvaguardare i livelli occupazionali e di procedere, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa in tema di società interamente partecipate, ad una ristrutturazione reale della società che vedrà il cambio della dirigenza. Non esiste altra strada, scrive la sindaca, per evitare di rendere vana ogni azione e per evitare di mettere a rischio la tenuta della stessa società.